L'installazione dell'erogatore viene effettuata da un tecnico specializzato blu, accuratamente formato e costantemente aggiornato sulle normative e sugli standard di igiene. In occasione dell'installazione, il tecnico verifica la corretta predisposizione dell'impianto idraulico. Installa il dispositivo di sicurezza Waterblock, che evita fuoriuscite accidentali di acqua, e installa il dispositivo Contalitri, che monitora la quantità di acqua erogata. Dopo aver effettuato la sanificazione dell'erogatore, il tecnico installa il sistema di filtrazione, che migliora il sapore e l'odore dell'acqua. Nei modelli con acqua gasata, installa anche la bombola di anidride carbonica per addizionare l'acqua durante l'erogazione. Il tecnico ti fornisce tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo dell'erogatore, consegnandoti anche un manuale d'uso in manutenzione. Con Blu è facile come bere un bicchier d'acqua.